Grand Crust, the wild taste Oggi prepariamo una parmentier di gamberi e butifarra nera. Per preparare questa ricetta per 4 persone avremo bisogno di Una confezione di gamberi argentini da 400 g Grand Crust Una patata Due scalogni Mezzo litro di latte 150 g di butifarra nera Un insaccato spagnolo Sale Olio d'oliva Erba cipollina fresca Mezzo spicchio d'aglio Per iniziare sbucciamo i gamberi ed eliminiamo l'intestino Mettiamo le teste in un pentolino dove avremo versato il latte E li facciamo cuocere fino a che non bolliranno In un altro pentolino mettiamo un filo d'olio d'oliva E lasciamo cuocere lo scalogno e la patata tagliata a pezzetti piccoli Per continuare Frulliamo il latte con le teste Le passiamo attraverso il colino cinese e le incorporiamo alle patate e allo scalogno Lasciamo bollire per 15 minuti a fuoco lento Mentre attendiamo mettiamo da parte 4 code di gamberi per la decorazione e tritiamo il resto Trascorsi 15 minuti frulliamo la crema di patate che dà il nome alla ricetta Con Parmertier definiamo infatti ogni elaborazione a base di purè di patate Saliamo i gamberi tritati, li saltiamo e li incorporiamo alla crema Tritiamo mezzo spicchio d'aglio e la butifarra nera e facciamo saltare Per continuare infilziamo le code dei gamberi in un bastoncino da spiedino Li saliamo e le passiamo in una padella con qualche doccia d'olio Non ci resta che impiattare Mettiamo la parmertier in un bicchiere Distribuiamo un poco di butifarra nera sulla superficie Disponiamo lo spiedino di gamber E spolveriamo con un poco di erba cipollina tritata Buon appetito!